Munizioni contenute in una busta e manette prive di numero di matricola e di marca sono state rinvenute nell'agro di Andria, passato al setaccio dagli agenti della squadra volanti del locale commissariato di polizia di Stato. La scoperta risale a tre giorni fa a seguito di un'attività investigativa compiuta nella periferia della città, nello specifico in via Spallanzani con trada capabianca. A ridosso di un canale per il deflusso delle acque fognarie, gli agenti, coordinati dal commissario capo Fabrizio Gargiolo, hanno trovato, nascosta sotto un cumulo di sassi coperto da una tavola in legno, una busta in cellofan contenente cartucce di diverso calibro. 8 portacartucce in metallo, di cui 7 contenenti 10 cartucce ed uno contenente altre cartucce per un totale di 79 cartucce calibro 7,62. Munizionamento per fucile e mitragliatore tipo Kalashnikov. Oltre all'ingente quantitativo di munizioni, i poliziotti hanno recuperato anche un bracciale di sicurezza, ovvero delle manette, che non riportavano né marca né numero di matricola, in perfetto stato d'uso. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale e soggetto ad accertamenti tecnici. Ulteriori indagini sono in corso per individuare chi deteneva il materiale.